Le 16 persone arrestate sono tutte indagate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Nel corso dell'operazione, condotta a Brindisi, Bari e Pavia, sono stati sequestrati beni per oltre un milione di euro. Nell'operazione coinvolti oltre un centinaio di uomini della direzione investigativa antimafia di Lecce, Bari, Napoli, Catanzaro e Salerno. Le indagini sono partite dalla denuncia di un professionista di Mesagne nel Brindisino, già consigliere regionale dal 2000 al 2005, che non riuscendo a pagare i debiti contratti per la campagna elettorale dove poi era stato eletto, aveva fatto ricorso a prestiti erogati da banche finanziarie. Nel 2009, non riuscendo a rientrare dall'esposizione debitoria, l'uomo si sarebbe rivolto ad uno degli arrestati che a sua volta lo mise in contatto con alcuni personaggi di Mesagne, tra cui esponenti della Sacra Corona Unita, in grado di erogargli il prestito ma tassi usurari. La situazione precipitò poi nel 2010, quando il professionista decise di ricandidarsi alle nuove regionali, aggravando così la sua esposizione debitoria, partita da 280 mila euro iniziali, somma alla quale si è aggiunta nel tempo anche quella di ulteriori 150 mila euro. L'ex consigliere regionale sarebbe stato costretto a pagare tassi compresi tra il 600 e il 1000% su base annua. Il professionista, tra l'altro, al danno ebbe anche la beffa, poiché non riuscì ad essere rieletto.